sentieri musicali perduti con degli argomenti che parlano della propria terra, della nostra terra, della bella Calabria perché noi siamo la faccia bella della Calabria e allora i componenti del gruppo Francesco Babillo continuiamo con Domenico Bapa e adesso Lev Cristian poi all'organetto e al tamburello Gregorio Tassone alla chitarra battetta, alla chitarra classica, la lera Calabrese Sandro Scina Passo elettrico e ai cori Pietro Maida e allora buon divertimento comincia così una serata indimenticabile in questa meravigliosa Piazza Mese buon divertimento amici di Caulonia con gli Amagora grazie a tutti 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 grazie a tutti